ciao a tutti come sappiamo il sistema scolastico non è nuova la cosa sta vivendo un momento di crisi acutissima che diciamo è degenerata però in modo epocale direi negli ultimi vent'anni quindi la degenerazione della scuola è qualcosa che ormai è in atto e sarà molto difficile cercare di rimarginare alcune ferite che sono state purtroppo inferte al sistema educativo italiano ma non solo italiano uno delle problematiche forse più scottanti è quella della libertà di pensiero e del senso critico cioè bisognerebbe riuscire a livello ideale diciamo a trasmettere agli allievi prima che arrivino alla maturità a trasmettere una sensazione no di avere la vita nelle proprie mani e di poter gestire in modo libero e consapevole attraverso un'autonomia di riflessione le proprie scelte che non devono mai essere indirizzate né diciamo decise nell'essere nell'adulto diciamo no da chi che sia perché c'è una libertà nei limiti delle leggi e della morale ma diciamo ogni individuo ha una sua unicità che deve essere mantenuta e che deve essere rivendicata sempre con orgoglio e andando avanti a testa alta contro tutte una serie di convenzioni di forme che vorrebbero limitare probabilmente no limitare questa espressione in modo parziale o totale allora è giusto che agli allievi si insegni fin dall'inizio fin dall'infanzia proprio a rivendicare questo diritto ad una libertà nelle scelte questo naturalmente sono parole poi nei fatti tutto ciò è molto difficile ovviamente in primo luogo perché tutto questo richiede naturalmente uno sforzo continuo da un punto di vista didattico per cercare di in qualche modo trasmettere all'allievo questa questo senso di libertà cosa assolutamente non facile è assolutamente non sempre possibile perché la maturazione della parte razionale dell'individuo avviene di solito attorno ai 13 14 anni non prima quindi prima dei 13 14 anni parlare di senso critico non ha senso e ma ma dopo i 13 14 anni il ruolo dell'educatore è anche quello di riuscire a trasmettere questo senso di libertà e di capacità di analizzare criticamente gli eventi e la società che diciamo la società che ci circonda ma fondamentalmente quindi quello che è importante da dire è che esistono delle forme invece che pur nate con l'esigenza di comunicazione e favorite dall'enorme sviluppo tecnologico che ovviamente nell'ambito di un sistema capitalistico tecno scientifico come quello occidentale hanno avuto un enorme successo penso appunto ai social media e tutte queste forme di comunicazione che consentono di mettere in contatto le persone anche a grandi distanze e in tutto ciò diciamo non c'è nulla di male anzi no sembrerebbe fin qui che la cosa sia semplicemente un vantaggio però il mezzo tecnico non è mai neutro e la neutralità della tecnica è stata messa in discussione a livello filosofico in vari modi che adesso non voglio diciamo qui enucleare ma ci sono tutta una serie di pensatori penso ad esempio ad Umberto Eco che dice virgolettato i social media danno diritto di parola alle giovani di imbecilli allora perché un grande intellettuale forse il più stimato il più grande intellettuale italiano del dopoguerra fa un'affermazione del genere perché fa un'affermazione del genere perché nei social media in questi mezzi di comunicazione non è solo il contenuto comunicativo che emerge ma è anche il modo con cui questo contenuto è comunicato che è molto interessante da analizzare e però non è appunto un discorso neutro tutto ciò quindi come tutti sanno gli esperti di comunicazione il problema non è nel contenuto il problema è in tutta una serie di cose contestuali che possono amplificare o possono invece ridurre il contenuto stesso allora nessuno qui è contro la democrazia la democrazia è una bella cosa a differenza della tirannide permette uno stato di cose generalmente generalmente più tranquillo per i cittadini più sicuro e quindi nessuno vuole in questo caso fare un discorso antidemocratico e quindi siamo tutti contenti di essere in una democrazia anche se questa democrazia può essere ci sono alcuni che potrebbero dire che è solo formale e non sostanziale ma lasciando perdere poi tutte queste critiche questi discorsi che si potrebbero fare sulla democrazia c'è però un discorso fondamentale che riguarda la democrazia cioè il livello di competenza cioè se quando si va a votare può essere interessante che ogni cittadino abbia lo stesso la stessa voce in capitolo con il voto no teoricamente anche qui no e sia in grado di esprimere un un'opinione esattamente con la stessa dignità di qualsiasi altro ci sono delle cose per cui il discorso democratico non funziona l'applicazione di un discorso democratico non funziona faccio un esempio l'applicazione di un discorso democratico sul tema dei vaccini per me a mio avviso non ha alcun senso perché per esprimersi su cose così complesse che riguardano biologia riguardano la genetica riguardano tutta una serie di conoscenze scientifiche che devono essere in qualche modo ottenute per poter partecipare in modo attivo e cercando di dare un contributo ad un dibattito in modo positivo devono devono essere devono essere conosciute queste nozioni devono essere devono essere possedute da chi anima il dibattito allora perché si arriva alla frase di Umberto Eco perché ci sono nella nella diciamo nell'analisi a livello generale di come funzionano questi mezzi di comunicazione emerge chiaramente che la volontà di parlare di cose che magari non possono essere conosciute del tutto in modo soddisfacente quindi questo può essere interessante può essere valido nel senso che nessuno è in linea di principio favorevole a coartare la libertà di espressione individuale ma infatti quello che dicevo all'inizio è importante da dire cioè non è importante il contenuto il contenuto può essere scientificamente valido o scientificamente non valido perché non è non è semplicemente un discorso di opinioni ovviamente è un discorso se io dico che il cielo è verde non è verde quindi è proprio un errore o se dico che 2 più 2 uguale a 5 ci sono delle cose che non sono analizzabili e messe sullo stesso piano perché una è vera e l'altra indubitabilmente falsa quindi cosa cosa è successo con questi social media è successo che l'individuo non essendo molti in molti non essendo non avendo un'istruzione quindi non avendo le competenze per potersi esprimere su un argomento ciò nonostante esprimono questa loro idea questa loro convinzione e fin qui non ci sarebbe nulla di male il problema è proprio però l'amplificazione che queste queste convinzioni questi contenuti hanno all'interno di un social media cioè io sono liberissimo di dire che 2 più 2 uguale a 5 e fin qui non ci sarebbe nulla di male ma il punto è questo se io dico che 2 più 2 uguale a 5 e il contenuto mio viene amplificato e magari c'è un premio nobel che invece dice 2 più 2 uguale a 4 perché ha le competenze perché ha studiato matematica adesso sto facendo un esempio assolutamente come dire non credibile ma solo per esigenze di semplificazione teorica no allora c'è questo premio nobel che dice 2 più 2 invece è uguale a 4 potrei metterci delle cose di matematica astruse in modo da rendere più credibile l'esempio no però non è importante adesso ecco appunto valutare questa cosa qui c'è questo premio nobel che invece dice 2 più 2 è uguale a 4 molte volte il premio nobel non ha seguito e ha seguito invece chi dice che 2 più 2 uguale a 5 cioè esistono ci sono delle competenze che non possono essere messe in votazione cioè non è che uno per fare un'operazione chirurgica debba essere votato dovrà sostenere i suoi esami a medicina o debba essere simpatico ad esempio no deve fare i suoi esami a medicina poi deve fare adesso non so una specializzazione immagino dopodiché farà un concorso credo stiano così le cose e poi sarà finalmente ammesso a poter esercitare la sua professione in modo onorevole ma questo non c'entra nulla con un discorso democratico perché sono delle competenze che devono essere valutate da chi ha gli strumenti per poterle valutare allora fin qui il discorso è piuttosto banale e detto da tutti ma se questo discorso qui noi lo esportiamo a livello scolastico le cose diventano meno banali banali perché l'utilizzo di social media all'interno di contesti scolastici secondo me è controproducente perché instilla nell'allievo la convinzione che il contenuto che possa avere una sua validità sia il contenuto che abbia un maggior successo di ordine numerico proprio diciamo democratico dite come volete insomma non è questo il punto ecco quindi il può avere questa percezione quando ci sono molte cose che riguardano la scuola ma non solo la scuola insomma che invece non non competono a questo discorso a questo meccanismo di voto democratico o di espressione della propria opinione non c'entra nulla cioè il conoscere la chimica organica non c'entra con la democratica non è che io voto perché l'atomo di carbonio si fissi all'atomo di idrogeno eccetera queste sono delle competenze che si sono sviluppate attraverso il lavoro di individui che hanno ricercato e hanno trovato le loro hanno fatto le loro intuizioni a livello di ricerca e poi le hanno pubblicate spesso molto spesso non venendo all'inizio considerati o addirittura anche combattuti però poi a un certo punto la verità emerge e le teorie scientifiche hanno questo decorso infatti quando Einstein presentò la teoria della relatività all'inizio nessuno gli credeva quindi questo è un po' il discorso quando Galileo insegnava all'università di Padova aveva grossi problemi ad insegnare perché perché la sua teoria eliocentrica era in contrasto con ciò che veniva insegnato normalmente in quella università nelle università italiane cioè il geocentrismo tolemaico e aristotelico quindi il modello nuovo eliocentrico cioè con il sole che sta al centro e con la terra che gira intorno cioè è stato trovato da Copernico, sistema copernicano era difficile insegnare, era molto difficoltoso per lui poter insegnare questa materia all'interno dell'università quindi trovò molti contrasti, trovò molti contrasti ecco quindi questo giusto per fare un esempio quanto il ruolo della cultura sia proprio quello invece di manifestare allo studente un senso critico che possa permettere un'autonomia di riflessione per andare oltre quella che è la convenzione o l'opinione dominante o una determinata consuetudine di qualsiasi genere una consuetudine didattica, consuetudine di una determinata verità scientifica o tale che come tale viene tramandata in ambito accademico, in ambito scolastico quindi io sarei assolutamente contrario all'utilizzo dei social media nell'ambito didattico e scolastico insomma, ecco, di qualsiasi genere essi siano ma invece sarei favorevole diciamo alla assolutamente, come in molti dicono a valorizzare invece proprio quello che distingue ogni individuo come capacità di elaborazione intellettuale e possibilità quindi di iniziare a esprimere veramente qual è la propria singolarità, quali sono le proprie vere diciamo attitudini senza conformarsi per questo ad un discorso del genere come abbiamo detto, abbiamo fatto l'esempio dei social media ecco, pare che sia tutto molto chiaro, molto semplice non è un video che deve brillare per originalità ma ci tenevo comunque a far presente questo mio pensiero perché credo possa essere interessante anche per animare un dibattito grazie e ciao a tutti